Cari amici di Telebari, benvenuti ad una nuova puntata di Tempi Supplementari. La trasmissione che riporta la radio in tv e che soprattutto apre con i videotemi, una cosa che piace molto ai nostri telespettatori e so anche al nostro ospite, che non inquadriamo subito, lasciamo un po' di suspense. Per introdurre quindi il tema della puntata prego la regia di mandare il video. Hai capito? No, non dici, si ho capito, poi non ne ho capito niente, perché non mi ho capito? Non ho capito, 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 non ho capito. Non ho capito, non ho capito, non ho capito, allora proviamo, va bene la regola prima, fai attenzione, prendi 40 carte, metti qua, alzo. Alzo per non imbrogliare? Bravo, esatto, per non imbrogliare, ho alzato, tre carte a te, tre carte a me, per terra, attenzione, guarda, non mi fa, per terra ci sono sette belle, asso di denaro, otto di spalle, tu in mani di un otto di bastone, capito? Sette belle asso di denaro? Bravo, sette belle asso di denaro, allora vedi che non ne ho capito niente, e dici, dici, ho capito. Tagito, quando sto, sei, ho otto per terra, non puoi pigliare sette, una, otto, ti pigliare forse otto. Ma perché? Mamma mia, ma perché è una regola, è una regola del gioco, proprio che dici, al costo, non si può pigliare. Vai, andiamo quasi, va bene. Ma nemmeno la scopera, la notte su... Non so, è colpa nostra, arrivederci maestro, grazie, andiamo. Arrivederci maestro, però mamma mia, calma, tu fatti la... Sette, una, otto. Non ci resta che piangere, tratto dalla galassia di YouTube, un film meraviglioso, e non so se è più divertente l'entrata di Benigni o questo Troisi splendido, che ci racconta una modernità particolare, tema della nostra puntata è la modernità, tra l'altro il video ha anche un omaggio al primo ospite, che è un po' campano come me, ma prima di presentare l'ospite telefonico presentiamo l'ospite in studio, Andrea Ferrante, presto protagonista, presto protagonista con Teresa Dondolava al Cineporto di Bari, più simpatico Benigni o più simpatica la Filippica di Troisi? Da regista te lo chiedo. Sicuramente la Filippica di Troisi, sicuramente. Molto più. Beh, penso farà piacere anche al nostro ospite, come ho già annunciato, di origine campana, io sono un mezzosangue, ho mamma campana, quindi è un piacere avere un quasi mio conterraneo, oltre che direttore di un grande giornale, il quotidiano sportivo più letto da Roma in giù e non solo, Paolo De Paola. Benvenuto direttore a Tempi Supplementari. Buon pomeriggio. Direttore, io la ringrazio perché so bene che questo è un orario caldo per i giornali, ecco, diciamo che nel tardo pomeriggio si iniziano a scrivere, a mettere su carta le idee del primo pomeriggio in redazione. Più che altro si mettono in atto i movimenti che porteranno alla riunione del pomeriggio, perché comunque è già dalla mattina che ci si confronta su quelli che sono i temi principali della giornata, soprattutto su quello che in questo momento è il tema principale che è quello del mercato, sicuramente. Che è sempre aperto tutto l'anno oramai. Direttore, il tema della puntata di oggi, ce l'ha presentato uno splendido Troisi, è un po' quello della modernità. A differenza di tante altre testate giornalistiche che hanno avuto, tra virgolette, tante volte direttori un po' conservatori, lei ha dato un grande impulso da sempre ai giornali che ha diretto per quanto concerne la veste grafica del web, che caro Andrea ha un po' sostituito quella che noi definivamo un tempo in gergolanza. Se cerchiamo delle notizie fresche basta andare su corrieredellosport.it e le troviamo subito. Il direttore ha dato un impulso molto forte anche in passato con TuttoSport e so che anche la veste grafica del web di oggi, del Corriere, sta cambiando anche molto, anche grazie alla web tv. Sì, noi l'abbiamo cambiata già a settembre ulteriormente. È una modifica che ha semplificato un pochettino la visibilità della comunicazione, l'ha resa molto più immediata e ha dato soprattutto slancio impulso alle notizie che stanno un pochettino sotto il primo scroll, cioè sotto la home page, la videata principale, in modo che ogni lettore poi possa con semplicità, scorrendo appunto il mouse, andare a vedere tutte le notizie e poi fare degli approfondimenti e cliccare appunto su quello che le interessano. Credo che non sia una nuova frontiera perché ormai da anni ci dibattiamo sul web che ha mangiato il giornale oppure come può essere il web complementare o il giornale complementare al web. Io credo che questo problema sia ormai superato dai fatti, nel senso che la notizia, l'aggiornamento e tutto ciò che riguarda l'immediatezza di ciò che ruota attorno al fatto sicuramente è fagocitato dal web. Dopodiché il giornale dovrà offrire sempre più degli approfondimenti che vadano un pochettino a stigmatizzare il proprio brand, cioè il nostro è un brand riconosciuto ormai da tanti anni. Si può dire che il quotidiano sportivo più amato da Roma in giù perché segue con attenzione non solo Roma, Lazio e Napoli. Io ho sempre apprezzato, direttore, la doppia edizione. C'è la possibilità di vedere anche via web, grazie appunto al Corriere.it, sia l'edizione romana per i laziali romanisti perché è anche giusto soddisfare. C'è una maggior possibilità, giusto direttore. Esatto, esatto, una doppia, un doppio binario, sia quello regionale o delegati a Lazio o Roma che magari sono in zona e poi c'è invece l'edizione nazionale. Anche questa è una dimostrazione di un giornale che si mette sempre più a disposizione del lettore. È cambiata proprio... Sempre più a disposizione, ma aggiungo una cosa. Il nostro è un paese assolutamente diverso rispetto a qualsiasi altro paese europeo, anche per quanto riguarda la comunicazione. Nel senso che noi abbiamo una profondità e una conoscenza, possiamo dire anche locale, senza usare un termine sprezzante per quanto riguarda questo vocabolo, per dire che la gente è molto appassionata a ciò che avviene nel proprio ambito, nel proprio ambiente, nel proprio circondario. Questa è una necessità che soprattutto si estrinseca in alcune regioni, in alcuni comuni e il Corriere dello Sport va incontro a queste esigenze, per cui è molto caldo e attento soprattutto a circoscrivere le varie realtà di cui si occupa. Le città e tu sono Roma, Lazio, Napoli, ma Fiorentina anche, Bologna con stadio... Anche le pagine sul Bari spesso e volentieri. Anche Bari, anche la Sicilia. Insomma è un concetto molto moderno, perché ormai lo vediamo anche da tutti gli indicatori, non solo di lettura, ma anche pubblicitari, che è molto più radicato il sentimento nei confronti della propria squadra, della propria regione, che non un sentimento unitario nazionale. Sembrerà un controsenso rispetto ai tanti sforzi che sono stati fatti dal 1860 in poi, da Mazzoni, dall'unificazione di questo paese... Salutiamo, tra l'altro, i fondatori, che ci seguiranno sicuramente, direttore. Attraverso l'unificazione di un paese, ma questa è una bella chimera, perché lo sappiamo benissimo che siamo e rimarremo sempre un pochettino il paese dei comuni, insomma, delle divisioni geografiche molto nette, molto decise, molto precise, nonostante anche questo tentativo di accorpare delle province che era veramente improbabile, almeno sulla carta. Direttore, ma pensa di farla una app per gli smartphone, così da ampliare al massimo... C'è già per iPhone, c'è già, per iPhone c'è. Noi ce l'abbiamo già, ce l'abbiamo già. La deve scaricare, la scarica durante la pubblicità, direttore. Ti faccio recuperare tutte le pagine da settembre, da quando c'è la nuova veste grafica. Un altro aspetto molto importante, direttore, come lei giustamente ha detto, è anche offrire un servizio tante volte diverso che possa assaggiare e che possa soprattutto soddisfare diversi palati. Anche l'edizione famosa, un altro grande direttore è stato Italo Cucci, che è un bolognese doc. Ecco, quindi anche per Bologna, e parliamo già di centro-nord, il Corriere dello Sport ha un'attenzione, non dico maniacale, ma realmente molto forte e molto presente. Si può dire che anche grazie al web il target del giornale sportivo è ampliato, ovvero non più soltanto gli appassionati veri, ma anche qualcuno che è magari interessato dalle realtà perché è emigrante, perché si trova in un paese lontano, perché si trova all'estero. Beh, deve essere una bella emozione per qualcuno che magari si trova per motivi di lavoro in Svizzera, in Germania o addirittura in Sud America, magari tifoso della Lazio, del Bologna, del Napoli, del Bari, vedere la prima pagina del mitico e storico Corriere che ancora oggi è ricordato per le splendide foto sull'aeroplano che riportò l'Italia dal Mundial Spagnolo con Pertini che giocava a carte con Zoff. A carte con Zoff, certo. Anche questa è una dimensione diversa che il Corriere secondo me ha. Il Corriere è il giornale del popolo. Assolutamente sì, mi piace che tu sottolinei questo aspetto. È anche vero che nonostante un periodo di crisi che accomuna un pochettino tutti i giornali del mondo occidentale, quindi non soltanto italiani, mai i giornali e soprattutto il nostro, il giornale sportivo, è stato così letto perché se sommiamo i lettori della carta stampata a quelli del web arriviamo a delle cifre incredibili. Oltretutto anche i dati dell'ADS che riguarda un pochettino soltanto l'indice di lettura del giornale ci proietta verso dei record che non avevamo in passato. Questo significa che c'è una diversificazione della richiesta di lettura e sicuramente il web appaga soprattutto quelle necessità che appunto dicevi tu che possono maturare anche all'estero e che prima la carta stampata invece proponeva come un limite della propria diffusione. Invece con il web arrivi dovunque. Io attraverso il mio blog comunico con persone che sono in Australia, chi in Giappone, chi addirittura a Hong Kong che mi scrive e dialoghiamo insomma certo con una certa brevità, una certa rapidità perché questa è l'altra faccia della medaglia bella secondo me del web appunto essere molto rapidi, concisi e sostenere dei ragionamenti piccoli chiaramente concentrati con cui dialogare con gli altri. Direttore prima di salutarci siamo un po' campani l'abbiamo detto direttore abbiamo fatto outing oramai eh. Ma quanto sarebbe bello rivedere una squadra meridionale come il Bari in Serie A? Non dico a scapito però le faccio un esempio il Chievo Verona che è una squadra di quartiere con tutto il rispetto per questo movimento calcistico di un presidente intelligente che detiene anche un'industria importante che è la Paluani e mi riferisco a Campedelli ecco. Quanto sarebbe bello e non siamo di parte vedere un Napoli che può trionfare e che può vincere lo Scudetto, rivedere un Bari in Serie A, una regina in Serie A come già è avvenuto con il movimento siciliano. Catania e Palermo da anni dominano sul palcoscenico della media classifica di Serie A che è un ottimo obiettivo. Ecco lei che ha lavorato alla Gazzetta dello Sport, è stato direttore di Tutto Sport e che adesso siede penso su una delle poltrone più ambite per chi ama questo mestiere che è quello appunto di direttore del Corriere dello Sport. Non avrebbe questa soddisfazione di vedere quei colori? penso anche a lei cari finalmente trionfare. Sì, io sono d'accordo, è ovvio che c'è bisogno come c'è stato bisogno in questi anni, diciamo dal dopo Maradona in poi, di importare o di assumere, ecco importare un termine forse sbagliato, di assumere una mentalità imprenditoriale. Io credo che in molte realtà del sud, guardo Catania, guardo anche Palermo, guardo soprattutto Napoli, ma anche Bari, spero ecco nel Bari come spero anche nel Lecce, si possano rivedere non solo fasti del passato, ma soprattutto un atteggiamento che guarda al bilancio e non solo all'entusiasmo, al bacino di utenza, al merchandising, sono tutti termini che ormai devono entrare nel costume anche di queste realtà, perché prima il calcio, ma lo è ancora adesso soprattutto al centro-sud, è soprattutto spinto dall'entusiasmo e dall'amore di un presidente mecenate, adesso non è più sostenibile per costi, soprattutto nei confronti di realtà internazionali, oltre che nazionali, avere quel tipo di atteggiamento, bisogna avere un atteggiamento molto più professionale, che però chiaramente viene tarato, ecco per questo dico che la regionalizzazione e il localismo è fondamentale, viene tarato poi sul proprio entusiasmo, sulla propria fantasia, sul proprio modo di intendere il calcio e da città a città noi vediamo che l'entusiasmo che c'è al centro-sud non esiste in altre realtà, ecco insomma quello che si crea attorno a Taranto, ecco mi riferisco anche a Taranto, una città purtroppo martoriata da un problema importantissimo in questi ultimi mesi, in questi ultimi anni, ma devo dire la gente che va allo stadio, la gente che ha entusiasmo per la propria città, insomma al sud è calorosissimo. Però direttore a proposito di entusiasmo, a proposito delle nostre origini, lei lo avrà approvato sicuramente, se dice buongiorno a Milano alle 7 di mattina la guardano male, se lo dice a Napoli inizia la festa, ecco questa è una differenza bellissima che spero che il nostro meridione non perda mai. No ma questo guardi, questo non la perderà mai perché diciamo dove è la patria del bel calcio? In un paese che è molto simile al nostro centro-sud che è il Brasile, diciamoci la verità, cioè se noi, se diciamo che il Brasile ma anche l'Argentina insomma sono tutti paesi latini nei quali ci identifichiamo un pochettino, bel calcio non può non essere abbinato a una mentalità un pochettino diversa, fantasia, piacere, anche un certo atteggiamento diverso nei confronti della vita in generale e che riscontriamo soprattutto nelle realtà centro-meditonali, anche se appunto negli anni il parmares dello scudetto è appartenuto sempre al dominio del nord, soprattutto sull'asse Milano-Torino. Il famoso vento del nord. Direttore, grazie ancora per essere stato qui a tempi supplementari a Telebari, salutiamo i tifosi del Chievo Verona che non ci seguiranno mai sul web dopo quello che abbiamo detto. Grazie a voi. Direttore, arrivederci, grazie ancora. Pubblicità, torniamo subito. Grazie a tutti. Grazie a tutti